Lo conosci? Tony Lacava di Chicago, due arresti per recitazione e nessuna condanna. Allora? Ok. 300 dollari e questo. Metteteli insieme al resto. Sì, signor. Ti ho preso col sorcio in bocca e non mi piace. Avevi promesso di giocare pulito con noi, ma vi conosco ormai. Voi dell'assicurazione correte dietro il 10%, ma noi cerchiamo di applicare la legge. Balle, tutto quello che vi interessa è sbattere dentro qualcuno per giustificare la paga. Ti compro la massazione e ragioni d'affesso. Hai preso la collana. Ma se ci avessi avvisato avremmo pedinato la cava notte e giorno. I tuoi scagnozzi non sarebbero capaci di pedinare un elefante in un nightclub. Vieni nel mio ufficio, Clut. E sbrigati che sei appeso a un filo.